registrazione video full hd a 30 fps con stabilizzazione digitale dell'immagine facciamo uno zoom digitale zoom è veramente veramente lento da fare col pinch to zoom arriviamo fino a 5 per di zoom digitale torniamo indietro ecco qua facciamo un rapido pan registrazione video 1080p 30 fps da sony xperia m5 ecco